Di solito il buongiorno si vede dal mattino e in effetti se Ila ricerca e trova il gol che sblocca il risultato dopo due minuti vuol dire che per il Monopoli non è proprio serata. Finisce 0-2 in favore del Teramo la sfida valida per la quarta giornata del girone C. Schenz schiera l'attaccante Mari Lungo dal primo minuto puntando sul consolidato 3-5-2. Solo due giri di lancette e gli ospiti, come dicevamo, passano in vantaggio. All'ottavo minuto ci prova Paolucci ma la sfera finisce alta sulla traversa. Passano 19 minuti e il Teramo raddoppia e sempre Bombaggi che delizia con i suoi assist ma questa volta è Costa Ferreira a metterla dentro. 0-2 e Monopoli stordito. Lacciacato Giosa fa spazio a Bastrini. Sul finire del primo tempo è sempre Costa Ferreira a rendersi pericoloso. Pugliesi non pervenuti. Nella ripresa la musica non cambia perché la squadra di Paci è a tenere il possesso palla. Al sessantesimo Pinza Uti impegna Pozzer che questa volta risponde presente. Scienza le gioca tutte, fuori Bastrini, Marilungo e Starita, dentro Guillebvre, Montero e Samele. Ma il risultato non cambia all'ottantanovesimo. Teramo in dieci per l'espulsione di Diachite. Maggiorno, su calcio di punizione, che ne consegue, non riesce nemmeno ad accorciare le distanze. Triplice fischio. Il Monopoli resta a tre punti e sembra la brutta copia della passata stagione. Il tempo per rimettersi in piedi però non manca.